Nella serata e ieri il Comune di Teramo ha deciso di non far riaprire le classi secondi e terze medie presenti sul territorio comunale. Una decisione in controtendenza rispetto ad altri comuni, assunta al termine del lavoro istituzionale con le dirigenti scolastiche e dopo aver sentito anche gli uffici scolastici provinciali e regionali. Quindi le 54 classi con oltre 1000 studenti proseguiranno con didattica a distanza fino a provvedimento contrario. Abbiamo ritenuto necessario e doveroso sottrarre i nostri ragazzi e le nostre ragazze e le loro famiglie a quello che è uno scontro istituzionale in atto tra il governo che oggi ha impugnato l'ordinanza della regione Abruzzo e quindi abbiamo ritenuto necessario intervenire noi come amministrazione per ripristinare un po' di ordine. Quindi in attesa che vengano assunte decisioni, che si trovi una convergenza e una comunione di intenti, che l'Abruzzo venga classificato in maniera univoca in una fascia o nell'altra, la decisione più saggia era quella di non esporre nessuno a ulteriori rischi secondo un principio di precauzione tutelando prima di tutto il diritto alla salute e tutto sommato consentendo anche che il diritto allo studio e il diritto all'istruzione venisse riconosciuto tramite modalità alternative come la didattica a distanza. Sempre nella serata di ieri su una chat WhatsApp di genitori che portano i propri figli nella scuola dell'infanzia di Piano Solare a Teramo sono venuti a conoscenza di un'insegnante positiva, situazione che ha ovviamente suscitato grande preoccupazione tra i genitori. Ci aspettiamo che vengano applicati i dovuti protocolli così come sta avvenendo in tutte le scuole del Teramano e che quindi la dirigente provveda a mettere in campo tutti gli atti necessari mettendo se serve in isolamento o meglio in didattica a distanza o comunque invitando i genitori a tenere a casa le famiglie. Siamo certi che questo avverrà e come in quella scuola anche in altre stanno venendo fuori dei casi di positività. Purtroppo è una normalità con la quale dobbiamo fare i conti ma certo non inizierei ora ad allarmarmi piuttosto richiamerei tutti quanti al senso di responsabilità. Quella responsabilità che ieri ha fatto sì che il sindaco firmasse un'ordinanza avvocando a sé determinati poteri, determinate responsabilità e quindi sospendesse la didattica in presenza per le seconde e le terze media allo stesso modo ci aspettiamo che la dirigente intervenga sul caso di positività della singola scuola per dover evitare di tornare noi come Comune a pronunciarci sul tema.